Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia di prevenzione dell'uso di droghe e alcol in età scolare. Firmano per la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Sottosegretaria di Stato, Onorevole Avvocato Maria Elena Boschi. Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Ministra Senatrice Valeria Fedeli. Grazie. 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 Grazie.